Facciamo la valigia insieme, però sarà una sfida perché io non so fare le valigie, devo stare via solo un weekend, quindi questo borsone andrà benissimo e io dovrò farci stare tutto qui dentro. Questo è il beauty skincare, questo il beauty makeup, costume intero perché andiamo alle terme, pigiama, pochette con all'interno l'intimo, due t-shirt, costume e copricostume colorati, se me la sento di fare qualche fotina, degli shirts visto che dovrebbe fare caldo. Ok, ho aperto anche il fondo così la borsa diventa più spaziosa, metto anche un maglione per essere più carina la sera. Ok, chiuso si è chiuso, forse ho un po' barato ad allargarlo, infatti pesa tantissimo, però ci ho fatto stare tutto, ma io ovviamente furba mi porto come borsa, comunque una borsa grande, così ho altro spazio per mettere cose. Ok, penso di avere ufficialmente tutto, seguitemi su IG per sapere dove vado. Voi di solito vedete il mio sfondo bello ordinato, ma la realtà è questa, quindi sistemiamo insieme la camera. Quindi tutto questo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info